E già, se non avessi studiato, probabilmente non saprei nulla di quello che ho fatto oggi. Ciao ragazzi, come va? Oggi mi anticipo subito, è stata una bella giornata attiva, è stata una giornata ricca di novità e di sensazioni comunque, di cose nuove, di cose belle. Perché? Perché oggi sono stato chiamato per conto di un'amministrazione, insomma di un comune, di una serie di cose, per valutare un servizio per una loro struttura e nello specifico una fontana. Ora, che cazzo è una fontana? Cioè, non è una cosa così comune, anche per me, insomma, che il principio di funzionamento è preciso, identico, sputato, spaccato a una piscina, però è comunque una cosa diversa, ha una funzione diversa, una prevede appunto che ci siano dei bagnanti dentro, quindi delle persone, quindi la salute, della sicurezza, e mentre l'altra non prevede questo, ma bensì è una struttura proprio ornamentale e quindi hanno due principi di funzionamento, due principi di utilizzo, non di funzionamento, diversi, ma il funzionamento è precisamente identico. Sono rimasto veramente sorpreso dall'incuria con la quale è stata gestita questa cosa, per vent'anni mi hanno detto una persona, un'azienda ha seguito questa cosa qui, e credetemi entrare da dentro, dentro questi posti, che sono stati gestiti da una sola mano, ok, diciamola così, quindi c'è stata solo una persona che è passata lì dentro e vedere tutta quella quell'incuria, quel danneggiamento, quel spreco di denaro, a me lascia sempre, mi fa proprio direi i coglioni, passatemi il termine, perché non è possibile, cazzarola, che santo cielo, non si controlla niente, non si fa niente di fatto bene, è veramente triste, ecco, e quindi ho visto la situazione, ho fatto la mia proposta, tra l'altro quando gli ho detto guarda la mia proposta consisterebbe in questo quello, ho detto cosa stai scherzando, se è così via subito, mi ha detto ma guarda che di sicuro non sto facendo i milioni, però non ci sto neanche regalando nulla, cioè voglio dire, e quindi mi immagino gli altri questa mania del mangiare, mangiare, mangiare tutto fino all'osso, e questo è quello che ci rende un po' quello che siamo, siamo dei fessi, un po' tutti, ecco, mi dispiace, però scusatemi se mi sono un po' permesso, è un po' uno sfogo, però ritengo che se non avessi studiato prima, ok, se non avessi studiato o partecipato ai convegni, se non avessi partecipato a un sacco di formazioni, io oggi mi avrebbe fatto vedere delle cose che comunque non mi erano chiarissime, non avrei avuto i principi di funzionamento chiari in mente, quindi sono veramente felice di aver scoperto che i miei soldi in corsi e formazione li ho investiti molto bene. Ciao ragazzi, buona serata e buon fine settimana.